Il Comune di Pineto ha annunciato che per questa stagione estiva non ci saranno i problemi per il parcheggio nell'area marina protetta a Torre del Cerrano come registrato nelle passate stagioni estive. Questo perché nell'ultimo Consiglio Comunale sono stati approvati i progetti per la realizzazione dei due parcheggi all'ingresso dell'area, presentati da altrettanti privati e accusi e giunti attraverso una interlocuzione che è stata portata avanti tra l'amministrazione comunale e gli stessi proprietari dei terreni, al fine di arrivare ad avere due progettualità sinergiche e simmetriche in grado di garantire sicurezza, rispetto dei luoghi e i servizi indispensabili con circa 200 posti auto complessivi. Quindi per questa estate è stata concessa un'autorizzazione temporanea ai due privati presenti nell'area. Lo possiamo dire, lo possiamo dire ad alta voce, non solo rispetto all'estate del 2022 ma rispetto a 20 anni di problematica irrisolta. Quindi abbiamo centrato questo risultato importante con l'approvazione in Consiglio Comunale della variante urbanistica, con il riconoscimento della pubblica utilità dell'intervento realizzato dai privati. Quindi questo determina appunto che, voltiamo pagina da questo punto di vista, le due aree che sono prospicenti, la torre di Cerrano e quindi l'ingresso dell'area marina protetta, saranno legittimamente adibite finalmente a parcheggio. I progetti in questione sono stati vagliati preliminarmente da tutti gli enti competenti, ma per non creare disagi il Comune ha deciso di procedere con i lavori dopo questa stagione estiva. I lavori partiranno dopo l'estate, secondo la progettazione che si sta ultimando e determinando. Non c'è bisogno di ulteriori passaggi in Consiglio Comunale perché la variante è stata già confezionata. Per l'estate, ormai alle porte, ovviamente lavoreranno i privati con un'autorizzazione temporanea che possiamo concedere sulla base ovviamente del carteggio e dell'istruttoria che abbiamo già compiuto con l'approvazione in Consiglio Comunale.